Grazie Presidente, onorevoli colleghi e colleghe. Oggi, essendo il mio primo intervento in Aula, dovrei essere emozionata e felice nel prendere la parola. Emissione e felicità che tuttavia non posso esprimere, né ricordare anche quest'anno, come hanno fatto anche prima di me, la morte di donne uccise dalla mano di un uomo, da quella mano che in alcuni casi un tempo le aveva accarezzate. Vite di donne, madri, figlie, sorelle. Vite che spesso hanno donato altre vite e che hanno amato altre vite. Talvolta dimostrate, sì, quelle sbagliate. La violenza di genere è solo il tragico epilogo di un percorso molto più lungo e non meno doloroso, che coinvolge l'intera nostra società. Viviamo in una società in preda a un'ignoranza affettiva, dove i tentacoli e le logiche del possesso materiale si sono estese ai rapporti personali. In quest'Aula credo di poter dire che siamo in maggioranza figli di generazioni in cui imperava la narrazione tossica della gelosia come forma di attenzione. Quante volte ci è capitato di sentir dire se è geloso vuol dire che ci tiene. Sarebbe ora che iniziassimo a dire chiaramente che quando la gelosia condiziona le scelte individuali non ha alcun legame con i sentimenti. È tossica e basta. Smettiamo davvero di considerare normale ciò che normale non è. Dal possesso fisico alle ingerenze nella libertà individuale, passando per i condizionamenti culturali che normalizzano stipendi più bassi, domande sulle proprie scelte familiari durante i colloqui di lavoro, condizionamento dei ruoli. Permettetemi di dire che il problema di fondo di tutto questo è che ancora troppo spesso la violenza viene accettata come normalità. Almeno fino a quando non è più sostenibile o sfocia in violenza fisica. Certo, mi rendo conto che è una frase forte. Però pensiamoci, oggettivamente è così. La violenza non è solo fisica. Violenza è quando qualcuno decide che la nostra gonna è troppo corta. Violenza è quando pensiamo me lo sono meritato. Violenza è condizionare la vita di giovani atleti con abusi psicologici diretti e indiretti, instillando la subdola ansia della perfezione corporea e favorendo la nascita di disturbi del comportamento alimentare. Violenza è la domanda a figli o pensa di averne durante un colloquio di lavoro. Violenza è attribuirci un ruolo che non abbiamo scelto noi. Violenza è la paura di farla arrabbiare. Violenza è dove far finta di niente perché gli altri non se ne accorgano. Violenza è vivere ogni giorno, sperando che magari domani andrà meglio. Violenza è convincersi che siamo fortunate perché non potremmo avere di meglio. Violenza è costringere una donna magari da sola a farsi carico del welfare familiare senza sostegni da parte dello Stato. E violenza, cari colleghi e colleghe di maggioranza, è anche costringere una donna, magari appunto sola, e togliere a queste donne occupabili il sostegno di chi oggi è lo Stato, dello Stato che è da loro e che permette loro di essere indipendenti, perché sì, anche l'indipendenza economica è un elemento che permette di non generare violenza. E violenza è creare barriere insuperabili per costringere una donna a emigrare in un'altra regione per abortire o coprevolizzarla, magari proponendo l'obbligo per legge di sepoltura dei feti. Ma violenza è anche insegnare alle nostre figlie a comportarsi da signorine e far credere loro che la normalità risieda in questo modello comportamentale. Ora, signor Presidente, colleghi e colleghe, la responsabilità di tutto questo è nostra. La responsabilità è nelle pieghe di quest'Aula e non è più accettabile una distanza tra parole e azioni. Io personalmente, per convinzione e per esperienza, non ho fiducia nei processi graduali quando si tratta di trasformazioni culturali, men che meno quando queste condizionano la vita delle persone e di alcune in particolare, appunto, le donne. Io penso che serva una rivoluzione copernicana del modo di intendere la donna nella nostra società. Servono leggi affinché queste intenzioni vengano messe a terra con una direzione chiara, precisa, inequivocabile. E allora iniziamo dal principio. E il principio è la scuola. La scuola, istituzione in cui io, e credo tutti noi, crediamo come principale pilastro della società. È quel luogo dove le bambine e i bambini acquisiscono e modellano la loro personale visione del mondo. E lo fanno evidentemente sulla base di categorie date. Impegniamoci concretamente, diamo a loro tutti gli strumenti di un Paese moderno, ad esempio introducendo seriamente i temi dell'educazione affettiva e sessuale. Insegniamo loro a riconoscere e rifiutare la violenza sul nascere in tutte le sue mille anguste sfaccettature, anche in risposta a un torto o a un insulto. E insegniamo alle bambine l'autodeterminazione, che sono bravissime a salvarsi da sole, perché possono avere tutti gli strumenti per farlo, e che il principe azzurro, se davvero esiste, può essere al più un ottimo alleato. Spieghiamo loro che il mondo è pieno di lavori da donna, ovvero tutti quelli che vorrebbero fare da grandi, che possono scegliere di essere ciò che vogliono, medici, modelli, astronauti, ballerini, insegnanti, attrici, ma soprattutto che a sceglierlo saranno loro e soltanto loro. Raccontiamo loro fin da piccole che il loro corpo è a far loro e di nessun altro. E soprattutto aiutiamo le nostre bambine e i nostri bambini a farsi portatori di questi valori, tra di loro e con le loro famiglie. Perché a volte, e lo dico a me stessa anche, ci concentriamo troppo su quello che noi adulti possiamo fare, insegnare ai più piccoli, e invece sottovalutiamo quanto loro, i nostri bimbi, le nostre bimbe, possono essere uno splendido esempio, anche per noi. Io credo che questa sia la principale speranza per leggere, tra non molti anni, storie diverse sulle pagine di cronaca. E nel frattempo? Nel frattempo non lasciamo le sole le donne. Non lasciateci sole. Abbiamo bisogno di centri antiviolenza su tutto il territorio, con una rete capillare e strutturata che sia pronta a tutelare e ad accogliere le donne vittime di violenza nel percorso di recupero della libertà e dell'integrità fisica, morale ed economica. Abbiamo bisogno che una donna che denuncia, che trova il coraggio e la forza di denunciare, non venga lasciata sola, proprio in quel terrore di aver denunciato. Non c'è incubo peggiore per una donna che ha subito violenza, denunciare e poi trovarsi da sola, sapendo che il suo aguzzino lo sta cercando. Sradichiamo sul nascere il gap salareale di genere, una vergogna che umilia ogni anno milioni di donne. E sulla stessa falsariga facciamo in modo che quel dono meraviglioso, che si chiama maternità, possa essere vissuto da tutte, indistintamente, come è l'esperienza che desiderano. A riparo da ansie, paure e sensi di colpa. Noi donne, invece, siamo chiamate un'assunzione quotidiana di responsabilità. Una responsabilità attiva, fatta di azioni e di prese di parola, di coraggio e di determinazione. E questo è il motivo che vedrà, sono certa, una grande partecipazione per le strade di Roma, in tutte le città, alle manifestazioni che ci saranno contro la violenza di genere. Al fianco di donne, che si rimboccano le maniche per cambiare, tenendosi per mano lo stato di cose presenti. Sono certa, e concludo, che ognuno di noi in quest'Aula metterà ogni forza possibile in una lotta alla violenza di genere reale, concreta e compiuta. E ogni azione, in questo senso, sono certa, ci vedrà in prima linea. Grazie Presidente.